Con l'abbonamento a EasyCassa è inclusa la fatturazione elettronica illimitata. Vediamo ora come si emette una fattura verso un cliente. Sotto lo scontrino virtuale hai due pulsanti scontrino e fattura che ti permettono di passare velocemente da uno all'altro documento. Clicca su fattura. EasyCassa ti chiede di selezionare un cliente a cui intestare la fattura. Clicca su associa. A questo punto fai pagare il cliente selezionando il metodo di pagamento desiderato. Prima di inviare la fattura all'agenzia delle entrate EasyCassa ti fa vedere un riepilogo della fattura. Se ci sono errori puoi sempre correggerla tornando indietro. Ricordati di selezionare la tempistica di pagamento desiderata. Ora clicca su emetti fattura per emettere la fattura. Ora che sai come si emette una fattura elettronica non ti resta che fatturare.